Vediamo un omaggio al mitico Dean Martin, signore e signori in Sway, Massimo Lopez! No ragazzi, però con Massimo Lopez, le figure, scusa Massimo, no c'è un problema, ciao Massimo, grazie, scusa, no non volevo, cioè veramente l'ottima, Massimo basta però, dai su, capito, adesso, no dopo, dopo, quello dopo, quello dopo, dai, quello dopo, dico scusa, non so, lo so, com'è, chi è, e chi è? E chi è? Dai non è successo niente, dai con il micro, lascia bene, va, ok, scusami, no perché questo non funziona, è l'ultima propria puntata, non vorrei fare, prova questo, chi è? Prova questo, prova questo, prova un po' questo, qui vediamo se funziona, scusate per questo, ente che, ed hanno sempre queste cose, ed è sempre questa cosa, ma è un fatto, ho fatto tantissimo, So sta succedendo Non lo so Da, sempre, uno, due, uno, due, uno, due, arriva fino a due Non è uscito, è uscito il E non, no Uno, due No No Ah, ho perché Eh Varlo Eh Arlo Eh, sì Ovalo Eh, spero Ovalo tu E tanto Ovalo Eh, io lo, ovo Eh, ho un problema, il microfono credo, problema che non è Eh, io lo, ovo, però, lo, ovo Ma, eh, ma che, ma tu esci a, inni bene, c'è, pisci quello che dico? Pisci quello che dico? Piscio quello che dici La sopra, o, da, a casa, secondo te, che succede a casa? Pisciano anche a casa E' normale, va Ossia, era Microfoni, ottesi Ho nessuno dei tuoi Tu, io, questa cosa di E che, le Gra E di questo Questi, oh, ecco Vedi, poni se, anta questi Musi, questi microfoni Ma anni, anni se, anta Ora quei, microfoni, azzi Azzi Ostri questi Prego questo microfono Ma, parliamo un attimo Perché tu, ammorato anche Della musica, è santa Della Vai Perché Musica, è santa, perché ti piace così tanto Io, sono molto contento Che Scusate Pens Scusate Ah, io sì E' stato Oh, adesso E' stato 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 Altri due microfoni Per favore Ah, ecco i nostri Azzi Ecco i nostri Conosci i nostri Azzi Azzi E' microfono Sono Azzie Azzi Azzi A voi Oh Finalmente Questi Questi funzionano Oh Questi funzionano Lo sai Sibile Però Dai Ed è questo E' questo E' questo E' questo E' questo Funziona? No 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 Sei fuori sync Massimo Lo so Eh Io? Eh sì Io? No Sì, sei fuori sync Te lo dico io Non credo Sì E tu? E io No Però dai Proviamoci lo stesso Con questi due Che secondo me Cosa succede? Eh sì Però se va via l'audio Continuamente Azzi Dai Vabbè Allora Andiamo a partire Con Con la Zone Possiamo Estro Te lo sai? Let my rhythm Start to play Dance with art to play Dance with art to play Dance with art to play I can live 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 Oh Ah sta La cosa dei microfoni Possibile avere due microfoni È possibile avere Due microfoni seri? Grazie Riporiamo da con questo qui Dovrebbe funzionare Lo sto qui O no Si è storto Sempre la cosa Io Non sono Il che non Gr2 Notizie Il presidente della camera Il presidente della camera Il presidente delle Stati Uniti d'America Donald Confermato 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 Piazza Berberini Piazza Berberini 40 49 Piazza Berberini 40 Radio Maria Il nostro signore E all'ascolto Cari fratelli e sorelle Oggi 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 In questo giorno Particolare Di questa Pace per noi E fra da cari fratelli e sorelle Oggi è la gioia Oh, non c'ho più papi, sono finiti papi, allora iniziamo con la musica, musica, è tutto finiti papi. Sway me now, all the dancers might be on the floor, in my mind I will see only you, only you have the magic technique, when we say I can win. I can hear the sound of violets, long before it begins, make me thrillers only you know how. Sway me now, sway me now, like a flower when it ain't a breeze, bear with me, sway with me, when we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. Massimo Lopez, a Dominique Poffo. Grazie. Io sono felice che tu sia venuto qui, ovviamente per mille motivi, perché sono cresciuta con le vostre cose e sono innamorata da sempre, però... Quindi non potevi mancare proprio tu. E con te vorrei dedicare a lei questo momento. Eh, questo è... ho capito, ed è dedicato tutto a lei e ci stai bene. Anna. Anna. È per Anna. No, no. No, è la mia. Massimo Lopez! Ciao Lillinia, ciao, ciao. 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 Ciao.